Gli effetti dell'ondata di gelo proveniente dalla Russia si stanno sentendo anche nel Molise, dove da ieri nevica un po' ovunque in provincia di Campobasso. Temperature a picco, con minime e massime costantemente al di sotto dello zero. Nel capoluogo la situazione al momento è sotto controllo con la neve che ha raggiunto i 20 cm. I disagi maggiori si registrano nelle contrade, dove i residenti si organizzano l'autonoma per liberare le strade e restano praticabili dal ghiaccio. Lungo la tangenziale e la circolazione regolare, anche in città al momento, non si registrano particolari problemi in azione ai mezzi del comune per liberare strade e marciapiedi dalla neve. Nonostante le forti raffiche di vento gelido, in molti hanno deciso di fare una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele tra le bancarelle di piazza Municipio, coperte dalla Coltre Bianca. Situazione completamente diversa fuori dalla città. Problemi si sono verificati sulla strada alle 17, nei pressi di Vinchiaturo e di Boiano, a causa di alcuni tir che si sono messi di traverso sulla carreggiata, sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Campobasso. Molte le auto rimaste in panne. Intanto, dalla scorsa notte, sono in azione i 100 mezzi della provincia di Campobasso, spartineve, spargisale ed alcune turbine utilizzate sui tratti di strada maggiormente esposti. A Termoli e lungo tutta la costa, invece, al momento l'emergenza è rappresentata dal vento di Tramontana, che soffia impetuoso ad una velocità che supera i 40 km orari. Il Molise, tra le regioni del centro-sud, è maggiormente colpite dall'intensa perturbazione e le previsioni per le prossime ore non annunciano nulla di buono. Temperature in ulteriore diminuzione e nevicate anche sulla costa. L'ondata di maltempo dovrebbe cominciare ad attenuarsi a Capodanno, ma fino ad allora l'allerta resta alta.